Ciao a tutti, sono Jacco Spalletti, lavoro con Python da ormai 15 anni e soprattutto nello sviluppo di applicazioni web. Partecipo volentieri alla comunità Python, quindi non solo a Python e Team, ma a tutte le altre attività della comunità Python, soprattutto italiana, e sono anche maintainer e contributore di diverse applicazioni open source, principalmente per Django. Ma la domanda a cui voglio rispondere ovviamente è enorme in realtà, perché tutte le sfaccettature dei settings di Django comunque è un territorio piuttosto complesso, talmente grande che oggi non ci proverò neppure. Proverò a darvi un po' di spunti, un po' di lezioni che ho apprese nel corso della mia esperienza, oltre a un'anticipazione di un tema su cui sto comunque lavorando per cercare di semplificare alcune casistiche. Il punto principale è che noi quando creiamo un progetto Django ci troviamo un insieme di file, vuoti, completamente il progetto parte, a meno che non usi template specifici, parte vuoto, senza nulla, e quindi cosa facciamo adesso? Magari vogliamo aggiungere un pacchetto, è molto semplice, pip install, Django fu e abbiamo il pacchetto. E quindi bene, talk finito, grazie, arrivederci, e please like e subscribe, andate pure al prossimo talk. In realtà magari fosse così facile, una volta installato il pacchetto dobbiamo comunque configurarlo per renderlo accessibile a Django, e non basta spesso modificare soltanto install ed apps e possiamo andare a usare il pacchetto. E allora? E allora tocca prendere una strada lunga, o forse anche no, proveremo a cercare una scorciatoia. Ma prima, cosa sono davvero i settings di Django? Nella forma base sono un semplice file Python chiamato settings.py, composto da un insieme di variabili con delle assegnazioni tipicamente con tipi primitivi come questi, booleani, stringhe, liste, eccetera, eccetera. Anche se nulla vieta di eseguire delle funzioni. Ad esempio possiamo andare a usare, possiamo usare OSEnviron per prendere delle variabili d'ambiente e valorizzare alcuni di questi valori, piuttosto che eseguire funzioni anche di pacchetti esterni come Django database URL per costruire i settings un po' più complessi. Però sui settings bisogna essere attenti perché non si può usare tutte le possibili funzioni. Una cosa come questa nei settings non potremmo farla, non possiamo usare l'ORM all'interno dei settings o in generale non solo l'ORM ma anche praticamente tutte le funzioni che poi vanno insomma proprie di Django. Questo perché i settings vengono inizializzati quando il progetto Django parte, in particolare quando vengono inizializzati dalla funzione Django Setup che tramite lazy settings che fa parte di quella categoria degli oggetti lazy che Django fornisce come request user, che vengono diciamo sì che wrappano l'oggetto vero di cui abbiamo, che andremo usare e che lo inizializzano soltanto nel momento in cui andiamo davvero ad usarlo. In questa fase qui finché non andiamo a fare settings punto qualcosa questo lazy settings è sostanzialmente vuoto, i nostri settings non sono davvero davvero inizializzati. L'inizializzazione scusate, prevede di andare a prendere i settings del progetto, quindi quello che c'è in settings punto pi, unirlo a quello che c'è nei settings globali e quindi fornire in memoria la configurazione finale del nostro progetto Django. Quindi finché non siamo arrivati fin qui il progetto Django non è inizializzato e tante delle funzioni di Django non possono essere usate. Come piccolo inciso, questo qui è uno snippet di codice che può essere usato in qualunque script Python in buona sostanza per inizializzare un progetto Django anche al di fuori dell'esecuzione di Django, quindi Django fornisce il command per esempio per eseguire cose a riga di comando ma in alcune situazioni magari non abbiamo un vero e proprio progetto Django, ci interessano magari soltanto alcune funzioni. Usando questo snippet noi ci troviamo un Django configurato e quindi che ne so potremo usare l'ORM dentro il progetto Flask, come ti dico per dire una boiata ovviamente. Tornando al topic principale, la struttura classica monolitica dei file Python è molto semplice da usare, però per esempio presenta dei problemi. Come andiamo a gestire i secret che ci troviamo a scrivere nei file? Come andiamo a configurare settings diversi per ambienti diversi? Questo Django di default non ce lo dà e quindi possiamo esplorare un po' di alternative. La prima più classica per certi versi, visto che abbiamo un modulo Python possiamo in realtà trasformarlo in un package, quindi abbiamo una directory settings con un dunderlinit.py e dentro abbiamo in realtà tanti file Python e ad esempio possiamo avere un file di default come questo e poi all'interno di un file live.py ci andiamo a importare default e andiamo a fare l'override di quello che ci può interessare e poi andiamo a eseguire o indicando esplicitamente il file o modificando la variabile d'ambiente Django settings module, qual è il file di settings vero da cui partire in buona sostanza perché poi in realtà questo file andrà a importare default e via via. Questo ovviamente è molto semplice, il grado zero diciamo così della personalizzazione dei settings di Django e permette una customizzazione completa di quello che può fare l'ambiente perché qua dentro possiamo metterci tutto quello che vogliamo. Però ovviamente non va a risolvere alcuni dei problemi che volevamo risolvere. Bisogna comunque indicare esplicitamente il file di settings da cui partire, il settings.live come avevamo prima e comunque abbiamo sempre i secret are coded nel codice. Come strada alternativa possiamo usare le variabili d'ambiente. In questo caso andiamo a basso livello per così dire usando S-Environ e andiamo a popolare quindi in produzione questo avremo debug false in sviluppo impostiamo una variabile d'ambiente a true e avremo il debug a true. Il vantaggio è che appunto i settings sono al sicuro in qualche modo, se li sappiamo gestire in modo sicuro ovviamente ma lato Django abbiamo una gestione sicuramente più sicura quindi rispetto al principio dei 12 fattori. In generale il setting è responsabile, può controllare cos'è che il singolo ambiente può andare a personalizzare perché se non è previsto una variabile d'ambiente ovviamente l'ambiente non può fare nulla di diverso e ha un'integrazione abbastanza naturale con sistemi di deployment come Docker, tutto quello che è basato su Docker, platform as a service eccetera eccetera e poi non ci troviamo il file system inquinato da decine magari di file e quindi sicuramente è un approccio più pulito. Però anche degli svantaggi, non tutti i settings di Django sono facilmente esprimibili come variabili d'ambiente, almeno diciamo così usando soltanto OSEnviron, per cui i settings, che ne so, dovremmo magari avere database host, database name eccetera eccetera eccetera, quindi avere tante variabili d'ambiente. Il rovescio della medaglia che il file di settings può controllare cosa l'ambiente può definire e che non possiamo magari, a volte abbiamo bisogno magari definire delle variabili o dei comportamenti specifici per l'ambiente e quindi inseriamo IF o OSEnviron vatte la pesca, allora facciamo cose e quindi questo ovviamente va a sporcare il codice. Possiamo quindi pensare di unire due approcci, abbiamo un default in cui usiamo le variabili d'ambiente per tutta una serie di cose e poi qui nel file live.py dell'ambiente del primo esempio andiamo a definire dei settings delle variabili. È comunque una soluzione ibrida con i vantaggi e gli svantaggi di avere soluzioni ibride. Un approccio un po' più evoluto che però di nuovo non risolve tutti i problemi è usare applicazioni esterne tipo Django Environ che darei un po' come il default o lo standard per andare a usare davvero variabili d'ambiente nei settings di Django perché comunque sia ci permette di accedere a variabili d'ambiente ma gestisce anche il tipo o almeno alcuni dei tipi delle variabili d'ambiente per cui ci converte un qualunque valore truthi o falsi in un booleano per il debug piuttosto che una lista vera anziché fare lo split come avevamo nell'esempio precedente o oggetti più complessi come appunto la configurazione di database o caches o tipi che in realtà non esistono, insomma non si usano nei setting standard come intanto il JSON. Uno può leggere, può trasformare una stringa in un oggetto, in un dizionario Python interpretandolo come JSON e quindi per configurazioni più complesse può risultare sicuramente utile, questo in parte ci va anche a permettere di definire cose particolari nei vari, specifici per i vari ambienti. Un approccio che risolve in realtà un altro problema, cioè ovvero quello di avere configurazioni per ambienti ma non necessariamente usando variabili d'ambiente è invece Django Configurations che sposta la definizione degli ambienti da singoli file in delle classi definite anche nel settings.py normale e in qualche modo quindi ripulisce il file system e anche l'approccio perché comunque sì avendo una struttura a oggetti noi possiamo definire una classe base con dei settings di default e poi in base all'environment andare a ridefinire quello che vogliamo. Usando una variabile di ambiente custom andremo poi ad eseguire il setting che ci interessa. Ovviamente questo esempio d'EverLive sono puramente casuali. Quindi ritornando al nostro problema iniziale, cosa succede quando faccio pip install? Ovviamente assolutamente niente, cioè se installiamo il nostro pacchetto però per Django quel pacchetto è come se non esistesse perché non fa nessun autodiscovery, si basa esclusivamente sui settings per definire il suo comportamento e quindi comunque ogni volta che installiamo un pacchetto abbiamo la solita tiritera di modificare i settings, modificare l'ulconf eccetera eccetera. Ci piace? Personalmente no. Io sarà che mi trovo spesso a usare applicazioni esterne e fare sempre questo passaggio è piuttosto lungo e farraginoso. Soprattutto anche quando internamente magari anziché avere un progetto monolitico che ha tutto quanto il codice abbiamo una serie di librerie di applicazioni Python che andiamo a riutilizzare nei vari progetti. ma a sua volta l'uso dei settings nelle applicazioni di usabili pone dei problemi. Ecco mettiamola in questo modo e quindi ci sono tanti modi di definire i settings o meglio di usare i settings all'interno di applicazioni di applicazioni di usabili. Il modo diciamo così più normale ovviamente è usare i settings di Django. Io qui ora non è mostrato nel codice ma sto importando i settings di Django accedo a un setting a caso eventualmente con un default e lo uso, basta. Allo svantaggio ai pro che ovviamente non dobbiamo fare nulla, stiamo usando i settings di Django quindi è tutto molto semplice. Abbiamo una cosa qui in generale tengo molto, abbiamo comunque la possibilità di fare l'override o il mock dei settings nei test. È una funzionalità di Django che usando i settings di Django viene assolutamente normale. Però ovviamente non possiamo garantire a livello magari di pratiche di team interno, sì uno potrebbe anche decidere che riesce a garantire l'esistenza di quel particolare settings in quel particolare progetto. Ma in generale questo non è vero, tanto meno quando magari l'applicazione viene rilasciata su PyPI e quindi in realtà anziché una sintassi molto semplice come questa deve essere sostituita da una serie di get-attre con la gestione default eccetera eccetera. Sicuramente il codice risultante è un po' brutto, ecco, anche meno leggibile. Quindi un primo passaggio che uno può pensare di fare, ok, io mi prendo tutti i miei settings che uso nella mia applicazione, mi creo un file di settings all'interno della mia applicazione, importo i settings di Django e mi vado a leggere, concentro tutti i get-attre in buona sostanza in questo file settings.py. Quindi poi nel codice applicativo mi importo i settings della mia applicazione, non più quelli di Django e posso accedere al setting di cui avevo bisogno garantendo che comunque sia quel setting che esista e sia valorizzato con qualche default più o meno utile e interessante. Il vantaggio è che è molto utile, cioè l'implementazione è banale, è semplice da documentare, semplice da usare per chiunque si approcci al progetto. Però i settings in questo caso sono valutati al momento dell'import, quindi il mock override settings o con la fixture settings di PyTest Django, il mock in generale settings per esempio non funziona perché il modulo è già stato importato e quindi nei test mi trovo a fare un po' di pastrocchi per poter essere sicuro di qual è il valore vero dei settings se vado a modificarlo tra un test e l'altro. Allora abbiamo il problema della valutazione import time, grappiamo tutto in una funzione get settings dove avrò tutti i vari get-attre e posso accedere ai setting chiamando una funzione anziché una classe. Perfetto, abbiamo una valutazione a runtime dei get-attre, buona sostanza, sto semplificando. Abbiamo anche la possibilità di avere della logica aggiuntiva, se il valore di questo settings è questo restituisco quest'altro o cose del genere, insomma e quindi ho più flessibilità nella gestione dei settings dell'applicazione. Però comunque è uno strato di astrazione sopra i settings di Django, e in generale vado a chiamare una funzione anziché accedere ad un attributo, quindi potrebbe essere meno efficiente anche se non è quello che poi rallenta un progetto Django ovviamente. Un approccio un po' più strutturato a tutto questo è usare un'applicazione come Django AppConf che dalla funzione passa a definire una classe, questa qui, io nel mio settings.py estendo la classe base di Django AppConf, mi definisco tutti quanti i miei settings e poi nella view importo l'istanza della classe e accedo al setting. Questo fondamentalmente mi dà tutti i vantaggi dell'accesso a un attributo, parlo in termini diciamo così di developer experience perché non mi devo ricordare la funzione, accedo all'importo i settings e accedo all'attributo e via. Abbiamo un accesso ai settings comunque valutato a runtime, quindi posso fare un mocking sensato nei test e mi metto a disposizione la possibilità comunque di strutturare una logica nella gestione dei settings incapsulata e più strutturata di come magari potrei fare in un'applicazione custom, però è una dipendenza aggiuntiva e comunque un livello di astrazione aggiuntivo. Detto tutto questo, questi sono alcuni degli approcci che abbiamo, che possiamo avere ai settings di Django di un'applicazione usabile e però vogliamo dire, la domanda iniziale era come posso installare semplicemente un'applicazione in un progetto Django? Possiamo automatizzarlo? In realtà la prima domanda che ci dobbiamo fare è dovremmo automatizzarlo perché come il maestro di tutti noi Randall Manro ci insegna l'automatizzare è bellissimo ma se un task in realtà viene svolto poche volte noi ci troviamo a spendere tanto tempo a fare tutta una serie di sviluppi debug eccetera eccetera e in realtà poi la promessa diciamo così che l'automazione ci liberi del tempo in realtà non è più così vera, quindi diciamo così è uno dei tanti trade off che ci dobbiamo affrontare durante il lavoro quotidiano. Dobbiamo automatizzare questa cosa? La risposta è ovviamente come sempre dipende. Come sviluppatore di applicazioni con source in realtà mi pongo questo problema perché vorrei che le mie applicazioni fossero semplici da installare e quindi che richiedessero meno tempo quindi magari al singolo utente le installa una volta, importa poco ma a me come sviluppatore so che magari verrà usata mille volte, mille, può interessare a rendere questa esperienza più piacevole diciamo così l'installazione dell'applicazione. Quindi ritornando alla domanda possiamo automatizzarlo? Questo è Python quindi perché no? Cosa abbiamo bisogno per automatizzare questo processo? Abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetta di modificare i settings applicando una configurazione di default fornita dall'applicazione ad esempio. E come possiamo automatizzarlo? Usando un po' di magia di Python che in questo caso si chiama AST Abstract Syntax Tree. Il AST è un passaggio nel flusso che l'interprete fa quando interpreta appunto un codice Python ed è il passaggio precedente alla definizione del bytecode. Quindi Python si costruisce in memoria una struttura ad albero sulla base del codice Python che sta incontrando durante la sua lettura del nostro codice. In questo caso abbiamo un expression che contiene una lista che a sua volta contiene tre costanti. Alla rappresentazione diciamo così teorica Python fa in realtà corrispondere un modulo che ci permette di accedere a questa struttura dati teorica sotto forma del modulo AST che espone una serie di classi in buona sostanza che ci costruiscono la rappresentazione, che ci permettono di accedere alla rappresentazione di questo albero. Nel caso specifico qui abbiamo questa struttura dati che corrisponde esattamente al grafo, scusate, a questo grafo qui. Abbiamo l'expression che contiene una lista che contiene tre valori costanti. Bisogna fare attenzione a volte a non confondere questa list giusto perché ha lo stesso nome con il tipo o comunque con l'oggetto lista esposto dall'interprete. Questi sono oggetti specifici di AST che hanno proprietà e metodi diciamo così propri perché sono dei nodi di un albero in realtà poi alla fine. AST ci permette di modificare il codice Python, non il codice sorgente ci permette di modificare il codice logico e ad esempio possiamo avere, possiamo voler raggiungere un elemento a questa nostra lista. Come primo passaggio andiamo a leggersi il file che contiene la lista tramite ST facciamo il parsing di questo codice sorgente in un albero cioè esattamente in questo albero qui. Se voglio aggiungere un elemento costante di valore 4 a questa lista so che dovrò accedere a trickle che è l'expression che contiene nel body la lista che contiene in questo attributo LTS le costanti che fanno parte della lista. Lo aggiungo, trasformo l'albero di logico diciamo così in codice sorgente e quindi qui avrò una stringa che contiene la mia lista di 4 elementi. AST a volte, cioè è molto di basso livello non sempre le strutture dati sono documentate quindi c'è molto debugging, molto print quando si va a lavorare con AST ci sono pacchetti esterni tipo AST che semplificano soprattutto la parte iniziale di parse e un parse del codice sorgente questo qui è esattamente lo stesso codice di prima scritto con AST in realtà io in questo caso lo uso soltanto per fare il parsing del file e per ritrasformare l'albero logico in codice sorgente questo esempio ovviamente avrebbe poco senso in altri esempi è un po' più comodo diciamo così cioè ci fornisce davvero qualche elemento in più quindi a questo punto sappiamo come modificare un file Python una cosa che dimenticavo è che uno dei vantaggi di usare AST è che abbiamo la garanzia che il codice questo codice sorgente qui sia codice Python valido perché stiamo modificando l'albero logico con cui Python costruisce il codice diciamo così e quindi in questo caso ovviamente l'unparsing non ci può che restituire un codice sorgente che è codice Python valido se facessimo le stesse modifiche con espressioni regolari nessuno ce lo garantisce anzi è abbastanza garantito che non avremo un codice Python valido in molti casi quindi diciamo così possiamo fare queste modifiche con più tranquillità possiamo a questo punto sappiamo come modificare il codice e il codice dei settings e quindi possiamo immaginare una struttura JSON definita in questo modo una delle installe d'apps da applicare quando si installa l'applicazione una serie di path da inserire nell'urconf e una serie di settings generici da applicare per mettere tutto insieme ho sviluppato questo proof of concept che si chiama Django Apple Enabler la pronuncia non è semplicissima che permette di applicare e di fare esattamente questo applica un file JSON incluso nell'applicazione nel pacchetto Python che vogliamo configurare e modifica il codice sorgente e lo modifica in questo modo ora è semplificato rispetto all'applicazione vera e propria però si va a leggere i settings scusate, ecco, così si vede meglio scorre tutti quanti i nodi in questa versione semplificata scorre soltanto il primo livello in realtà dei nodi non va ad attraversare l'albero in profondità ma essendo dei settings in buona sostanza è raro che serva a fare molto di più e poi a seconda del tipo di nodo che va a incontrare può fare delle operazioni in questo caso ci interessa modificare install ed apps quindi ci andiamo a cercare un nodo assign che rappresenta questo elemento qui che abbia come elemento di sinistra install ed apps cioè questo a destra sappiamo di avere di avere una lista aggiungiamo sappiamo come aggiungere un elemento a una lista in questo caso sto usando extend perché potrei voler installare più applicazioni ma comunque andiamo a sappiamo come alterare una lista di di est andiamo ad aggiungere le install ed apps definite dall'applicazione facciamo l'unparsing in codice sorgente e andiamo a sovrascrivere il file di settings la struttura del file il codice sarà completamente diverso perché si riscriverà completamente il codice ma comunque sia sarà valido e equivalente a quello precedente e quindi ritornando al punto iniziale con Django enabler install Django fu possiamo installare l'applicazione e andare a modificare il file dei dei settings se invece l'applicazione non supporta non diciamo così non fornisce questa configurazione possiamo anche farcela noi e applicarla con con apply ovviamente se se lo dobbiamo fare una volta solo ha poco senso se dobbiamo farlo cento volte magari può avere può avere senso è assolutamente un proof of concept crea più problemi di quanti probabilmente ne risolva però se volete vedere un progetto Django esplodere perché non installarlo e provarlo e poi magari farmi sapere cosa ne pensate questa volta grazie per grazie per davvero se conoscete Python o Django e avete voglia di confrontarvi con sfide interessanti e con cose stupide come questa facciamo due chiacchiere ben volentieri e stiamo assumendo e questi sono i miei contatti se volete poi contattarmi dopo dopo la conferenza e non so se ci sono domande grazie c'è qualche domanda in sala da poter fare vediamo ok era tutto chiaro così e ne approfittiamo per andare velocemente a pranzo è un'ottima motivazione per non fare domande grazie ancora grazie a voi 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 grazie a voi